Lo scorso marzo è stato avviato presso la Biblioteca Civica di Pordenone il progetto Letture senza barriere, iniziativa finanziata dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura. Questo progetto si rivolge ai bambini con difficoltà di lettura, ipovedenti, non vedenti, bimbi che manifestano dislessia o con bisogni educativi speciali, affinché anche loro possano frequentare con serenità e senza barriere la biblioteca della nostra città. L'iniziativa si sta sviluppando in più fasi. Inizialmente i dipendenti della biblioteca hanno ricevuto da educatori, psicologi e specialisti una formazione adeguata per accogliere i bambini con difficoltà, mentre a breve inizierà un ciclo di lezioni sul tema della disabilità visiva e della dislessia per educatori ed insegnanti. La biblioteca non è solo un servizio per prendere in presto i libri, ma molto molto altro. È un centro culturale e anche un centro che favorisce la lettura e la favorisce per tutti e questo è il senso di letture senza barriere che sta già andando avanti da un po' di tempo con una serie di azioni informative per gli insegnanti, gli educatori, le famiglie che continuerà. Continuerà con dei laboratori per i bambini con delle difficoltà da 0 a 10 anni e poi anche con l'acquisto di strumenti per agevolare la lettura. Penso ai libri Braille per i non vedenti, ma anche a supporti per i bambini con diverse forme di dislessia e di autismo. Il 17 novembre si svolgerà la prima delle quattro lezioni online gratuite, rivolte principalmente agli insegnanti, ma aperte anche a genitori e familiari che vivono da vicino il problema dell'autismo e della disabilità nella lettura. Per informazioni sul calendario degli incontri e per iscriversi www.comune.pordenone.it slash letture senza barriere